prepareremo con l'aiuto di Tommaso e Giulia dei semplici biscotti integrali senza burro con il cioccolato fondente i nostri ingredienti sono cioccolato fondente, zucchero integrale, una tazzina di caffè, farina integrale un uovo, olio di semi, olio d'oliva, bicarbonato e un pizzico di sale farina quasi tutta setacciata, Tommaso e Giulia un po' alla volta e si gira il caffè e si gira tutto, la tazzina di caffè bravi e si gira aggiungiamo olio di semi e olio d'oliva poi un pochino di bicarbonato, una spolveratina si, 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 tu puoi andare direttamente lì sopra ancora, ancora basta un pizzichino di sale basta il cioccolato tritato si ora ci mettiamo il nostro uovo, uno solo mentre Giulia finisce di girare tutti gli ingredienti Tommaso aggiunge l'ultima parte di zucchero perfetto ora si amalgama tutto l'impastino finito ora li preparano per metterli in forno con il cucchiaino fatti tutti a bocconcini poi in forno a 180 gradi, 10 minuti e pronti eccoli i biscottini integrali senza burro sono pronti uno ci è venuto un po' anche a forma di cuoricino ecco pronti i biscottini semplici integrali senza burro fatti da Tommaso e Giulia ora Giulia ci dirà come sono venuti buoni buoni? perfetto tutti diversi, artigianali e gustosi ciao ciao